Musica AgriSystem, una società fatta da giovani che cerca di affrontare quelli che sono i temi dell'agricoltura in maniera globale ragionando dalla nutrizione di fondo alla nutrizione speciale ai fitofarmaci i temi più importanti su cui ci stiamo muovendo sono quelli della riduzione dell'impatto ambientale quindi stimolare nelle piante quelli che sono i loro meccanismi di difesa in questa ottica stiamo presentando il Bioclean che è un estratto di fermentazione del genere lato bacillus e che quindi non contiene il bacillus in sé ma contiene dei metaboliti che sono fisiologicamente attivi sulla pianta stimolandone le resistenze ed è uno di quei prodotti che da fitofortificante aiuta la pianta a difendersi dai vari funghi e dai vari batteri sia in campo che in conservazione ed ha anche un grosso effetto cicatrizzante in caso di eventi avversi tipo grandinate è un prodotto che si muove proprio in quella che è l'ottica del residuo zero perché essendo un prodotto derivante da fermentazioni quindi non da molecole chimiche di sintesi non comporta la presenza di nessun tipo di residui oggi si parla tanto di agricoltura integrata, di riduzione dei residui e riduzione della resistenza questo è un prodotto che è molto importante nella gestione delle resistenze perché può essere accoppiato o intervallato ai fitofarmaci incrementandone la risposta e può anche essere utilizzato come stimolante per la pianta in quei meccanismi di resistenza nel caso di conservazione dei frutti sia ortaggi che fruttiferi tipo gli agrumi e quindi adatto anche ad incrementare quella che è la shelf life dei prodotti le modalità di intervento con questo prodotto sono nell'ottica dei 3 litri ettaro per via fogliare in più di un'applicazione nel caso di trattamento sulla coltura in un'unica applicazione da 3 a 6 giorni prima della raccolta per incrementare la shelf life e ridurre l'incidenza di quelli che sono i funghi del post raccolta perché l'efficacia di questo prodotto viene notevolmente stimolata dal fatto che è assolutamente sistemico nella pianta e quindi ci garantisce una copertura totale all'interno della pianta il bioclim è il prodotto adatto per ridurre i problemi di resistenza garantire la shelf life e ridurre quelle che sono le problematiche legate ai funghi più comuni dalla botrite alla peronospora all'oidio e ai funghi anche del terreno nel caso del terreno l'applicazione è da 3 a 5 litri ettaro Grazie a tutti